La nuova pista di Perietola La nuova pista di Perietola per esporre nell'ambito del percorso partecipativo ai cittadini il nuovo progetto di ampliamento dello scalo. Ribadite le quote di sorvolo e il cronoprogramma dell'intervento nell'incontro a cui ha partecipato anche il governatore della regione toscana, Eugenio Gianni. Il prossimo dibattito pubblico sul nuovo masterplan dell'aeroporto si svolgerà a Prato. Dopo la richiesta inoltrata dal presidente della provincia, Francesco Pugelli, prima attraverso il talk di TV Prato, parliamoci chiaro e poi in maniera formale, il coordinatore del percorso partecipativo inizialmente previsto solo a Firenze ha deciso di fissare una tappa anche nella nostra città. Stiamo lavorando per realizzare già il prossimo appuntamento a Prato, quindi quello della prossima settimana. Vediamo se ci riusciremo, però sarà quello seguente. Diciamo che sono interlocuzioni che sono tuttora in corso. La novità è emersa ieri in occasione del secondo appuntamento dell'iter partecipativo promosso da Toscana Aeroporti, a dire la verità anche stavolta poco partecipato. 30 posti in presenza occupati, la metà di quelli disponibili, 67 gli accessi in remoto. Un paio i cittadini pratesi in sala, compreso l'ex sindaco di Poggio a Caiano Marco Martini, a seguire l'incontro che approfondiva gli aspetti tecnici e ambientali del nuovo progetto. Toscana Aeroporti ha ribadito le quote di sorvolo su Prato, in decollo superiore ai 1000 metri su Cafaggio e Fontanelle, in atterraggio a 665 metri su Capezzana e a 490 metri su Cafaggio e Fontanelle, mentre con il nuovo Masterplan non vengono toccate San Giorgio a Colonica e Paperino. Corrisponde esattamente alla quota con cui oggi gli aerei sorvolano il casello autostradale lungo l'autostrada A1 all'altezza di Scandicci. Facciamo questo paragone perché si tratta innanzitutto di un'altezza ampiamente significativa e non abbiamo mai ricevuto né noi, gli organismi di controllo, ciò deputati, lamentele o proteste dal punto di vista del disturbo acustico in quell'area. Chiarito anche il crono programma di realizzazione della nuova pista da 2200 metri, tra dicembre 2023 e febbraio 2024 Toscana Aeroporti auspica che siano conclusi sia il percorso di valutazione di impatto ambientale che la conferenza dei servizi. Il primo giorno di lavori coinciderà con lo spostamento delle specie animali dal lago di Peretola, su cui passerà la nuova pista, all'opera compensativa a Signa. Da lì partiranno 12 mesi di monitoraggio delle oasi di biodiversità e se secondo i tecnici pagati da Toscana Aeroporti i nuovi ecosistemi si saranno riformati, nel 2025 sarà aperto il cantiere. Tutto questo al netto di eventuali ricorsi. Noi credo che dal punto di vista, così come è stato anche la volta precedente, dal punto di vista della consistenza e qualità del progetto, pensiamo di essere assolutamente tranquilli. Noi stiamo lavorando anche perché dal punto di vista della compatibilità amministrativa, tecnico-amministrativa, il progetto sia ineccepibile. Continuiamo a parlare della nuova pista di Peretola perché ieri sera in città si è tenuto l'incontro di Prato Riparte con ospite l'associazione In Pista che sposa il nuovo progetto di sviluppo dello scalo fiorentino. Nel corso dell'appuntamento è stato mostrato anche un video che simula l'atterraggio di un mezzo con il sorvolo sui celli di Prato. Vediamo. Questa nuova masterplan migliora soprattutto i sorvoli nella zona della Piana perché avendo arretrato la pista verso Firenze le quote saranno più alte per cui i nuovi sorvolati saranno meno e a quote più alte per cui sì è nettamente meglio rispetto al precedente. Sorvoli nella Piana a quote più alte su zone non densamente popolate e con un migliore impatto acustico e ambientale. Queste le considerazioni dell'associazione In Pista rispetto al nuovo masterplan dell'aeroporto di Firenze. L'associazione nata due anni e mezzo fa per promuovere lo sviluppo dello scalo e formare i cittadini sposa dunque il nuovo progetto di pista di 2200 metri declinata convergente avanzata da Toscana Aeroporti e sul palco del laboratorio politico Prato Riparte all'ex chiesino di San Giovanni illustra in dettaglio quelle che a suo giudizio saranno le condizioni migliorative anche per il territorio di Prato. Sul nostro territorio è pochissimo impattante, tanto più io sono residente a Prato, a San Paolo per cui neanche che sia esterno di Firenze, saranno spostati verso la parte industriale cioè a sud del Macrolotto per cui non impatteranno aree densamente abitate e comunque il rumore sarà più o meno paragonabile a quello attuale anche adesso quando decollano poi virano sul Prato, non è che non virano però le quote saranno alte, saranno sempre aerei tra virgolette piccoli perché? Perché le famiglie di aerei che utilizzeranno nuova pista sono comunque uguali a quelle attuali lo stesso aereo è un po' più lungo ma stesso motori, stesse ali per cui alla fine non è che ci sarà il jumbo jet sul Prato come è stato detto qualche volta. A supporto di questa tesi un video mostrato per la prima volta in assoluto è promosso dall'associazione in cui si simula l'atterraggio di un aereo e soprattutto il sorvolo sull'area pratese del mezzo in avvicinamento il filmato di tre minuti mostra il tracciato seguito dall'aereo il suo passaggio a 660 metri di quota sulla zona delle Fontanelle il sorvolo a 300 metri su Capalle, 260 metri sul piccolo abitato di Fornello e a 200 metri sul centro benessere Asmana fino all'arrivo a terra. Termini ambientali allora, quando gli aeroplani sono in avvicinamento gli aeroplani hanno una spinta che è sotto il 50% della potenza massima erogabile quindi inquinano molto poco e in realtà gli aeromobili di nuova generazione che sarebbero quelli che potrebbero utilizzare la nuova pista sono aeromobili che hanno già una motorizzazione che consuma un 30% o meno rispetto a quelli attuali, quindi pochissimo. La serata firmata a Prato Riparte ha visto la partecipazione di numerosi cittadini imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. Se c'è qualcuno che magari può anche mettere dei dubbi e dare delle altre soluzioni al masterplan benvenga e queste sono le occasioni giuste da creare per poter intervenire e magari incidere su quello che sarà un'opera che poi diventerà molto importante per tutto il territorio. Unire le idee delle start-up innovative alle esigenze delle piccole e medie imprese del distretto con questo obiettivo a Prisma sono state selezionate altre cinque aziende nell'ambito del progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti. Sono cinque le start-up premiate da Prisma nell'ambito del progetto della Casa delle Tecnologie Emergenti finanziato dal Ministero con 2,9 milioni di euro. Su 47 start-up partecipanti da tutta Italia al concorso Prisma ha selezionato quattro attività emergenti legate allo sviluppo del manifatturiero e una legata all'efficientamento energetico. Tra le premiate troviamo Apuana SB di Carrara che si occupa della digitalizzazione sostenibile del manifatturiero poi Foodi di Pistoia che vuole dare nuova vita agli scarti tessili a distanza e ancora Stay di Berlino che cerca di accelerare la transizione verso un consumo sostenibile e Budstech di Cremona che fornisce servizi tecnologici per operazioni di ascolto del web e dei social media. A loro il compito nell'arco di un anno di sviluppare le proprie idee e di metterle in sinergia con le PMI del distretto sotto la supervisione di Prisma e di Start-up Italia. Le nostre start-up si occupano di produrre, promuovere e portare nella città di Prato soluzioni innovative nell'ambito del distretto tessile e quindi nell'ambito del settore del tessile moda. Quindi oggi si stanno presentando le soluzioni, si stanno presentando quali sono queste soluzioni da mettere a servizio del distretto. La cosa importante per l'amministrazione comunale è che dare occasione a queste aziende, a queste start-up innovative di confrontarsi con il nostro distretto produttivo diventa un'opportunità non soltanto per loro ma anche per il nostro distretto. La quinta start-up premiata è Enco di Firenze. Si occupa di creazione delle comunità energetiche ed è stata scelta da Estra come progetto da finanziare con 20.000 euro. Lavorare con le start-up ci dà la possibilità di intercettare nuove opportunità e creare sinergie con punti di vista diversi sul modo di fare business, conclude Fabio Nicolai, direttore generale di Estracom. La collezione del Museo di Palazzo Pretorio si arricchisce grazie ad una nuova donazione. Si tratta del ritratto del collezionista pratese Carlo Palli, eseguito dal visual artist Pietro Costa. L'opera fa parte della serie di lavori dell'artista denominati Bloodworks, eseguiti con il sangue del soggetto ritratto che viene utilizzato come pigmento tra due fogli di milar ed è stata realizzata in occasione della sua recente mostra ospitata da Palazzo Pretorio. Il ritratto è stato esposto in maniera permanente al pian terreno del museo. Non è la prima volta che Carlo Palli fa una donazione al pretorio. Al terzo piano del museo sono infatti esposte altre due opere donate dal collezionista La Venere Maria Nudo Color Seppia di Michelangelo Pistoletto e La Victoire de Samotras di Yves Klein. Dall'arte allo spettacolo, i tre appuntamenti fiorentini dello spettacolo La Favola Mia di Giorgio Panariello previsti per ieri sera, per stasera e per domani al Teatro Verdi di Firenze vengono rinviati a causa di una forte labirintite che ha colpito l'artista. Gli spettacoli verranno recuperati rispettivamente il 19 e 20 dicembre e il 30 gennaio prossimo sempre al Teatro Verdi. I biglietti già acquistati restano validi per i nuovi appuntamenti, per le nuove date corrispondenti. E adesso lo sport, il calcio, il giudice sportivo ha respinto il reclamo della Correggese confermando la vittoria ottenuta sul campo dal Prato. Ma ci sono altre grane dalla giustizia sportiva per i biancazzurri dopo i tre punti di penalizzazione già inflitti dal Tribunale federale per inadempienze relative alla passata stagione. Sui biancazzurri pende infatti anche il ricorso relativo alla gara con il Real Forte Querceta. Una settimana sulle montagne russe. È quella che sta vivendo il Prato, diviso tra gli ottimi risultati sul campo e le decisioni del giudice sportivo e del Tribunale federale nazionale. Se sul campo la squadra con l'arrivo di Mister Brando sta macinando gioco e punti, dall'altra quei punti, ottenuti con così tanta fatica, vengono sottratti per inadempienze ed errori burocratici. La classifica dice che il Prato attualmente ha 17 punti perché ai 20 effettivamente raccolti sono stati sottratti per ora i tre per non aver rispettato il vincolo di giustizia sportiva in merito ad una clausola inserita in un contratto stipulato con un collaboratore della passata stagione. Il Tribunale federale per questa ragione ha anche inibito per un anno il presidente Commini. Una decisione appellabile che potrebbe anche restituire quei punti sui quali però al momento non si può fare affidamento. Su quota 17 pende anche il reclamo del Real Forte Querceta relativo alla gara di domenica scorsa vinta sul campo dal Prato che però per quattro minuti ha giocato senza una delle quattro quote under previste dal regolamento. È molto probabile che quei tre punti verranno quindi cancellati dal giudice sportivo se arriva così virtualmente a quota 14. E qui giunge almeno una buona notizia perché al di sotto di quella soia non si scenderà. Il giudice sportivo ha infatti rigettato il reclamo della Correggese che chiedeva la non omologazione del 2-0 maturato in campo in occasione della partita giocata il 30 ottobre contro Biancazzurri e la conseguente ripetizione della gara. Gli emiliani contestavano l'altezza non regolare di una delle porte. La partita era iniziata in ritardo proprio per questo motivo per sistemare la porta incriminata. A fine gara però gli emiliani si erano rifiutati di firmare il documento per il via libera presentando poi reclamo. A seguito dell'analisi del rapporto dell'arbitro e del successivo supplemento richiesto dall'organo giudicante oltre che delle controdeduzioni inviate dal Prato è stata confermata la vittoria sul campo di Biancazzurri. Inutile aggiungere che le penalizzazioni incidono pesantemente sulla classifica cambiando nettamente la situazione e le ambizioni. Dal trovarsi a meno 9 dalla vetta con i 20 punti ottenuti sul campo per effetto di tutte le penalizzazioni il Prato potrebbe infatti passare ad avere solo un punto di margine sulla zona play-out. È arrivato il momento delle previsioni meteo come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno dal Consorzio Lamma, dalle immagini del satellite possiamo vedere come la perturbazione che ci ha interessato nella giornata ieri. Ieri adesso si trovi sui Balcani quindi ampie schiarite e sono presenti sulla nostra regione. Tuttavia ad ovest vediamo della nuova nuvolosità che verrà ad interessarci nel pomeriggio di oggi ma quindi guardiamo subito la previsione all'insegna di un cielo generalmente poco nuvoloso ancora sulle province settentrionali. Tuttavia come dicevo nel corso del pomeriggio aumentano le nubi sulle province meridionali e in serata in particolare saranno possibili delle deboli precipitazioni in particolare tra il basso di Vornese, l'alto Grossetano e il Senese. I venti saranno generalmente forti di libeccio sul ditorale settentrionale, mari generalmente ancora molto mossi, i settori a nord dell'isola d'Elba. Le temperature massime quest'oggi subiranno un aumento rispetto a ieri. Per quanto riguarda la tendenza poi per la giornata di giovedì, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, quindi la pressione è in aumento, tuttavia al mattino avremo ancora banche di nebbia, foschie dense e delle nubi basse sulle province settentrionali. Per quanto riguarda i venti saranno deboli di maestrale, mari generalmente mossi al pomeriggio, cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, tuttavia aumentano nubi alte e stratificate a partire da ovest e questo che annuncia poi un peggioramento per la giornata di giovedì. Con questo direi che è tutto. Si conclude qui il nostro telegiornale del giorno, l'appuntamento con l'informazione di TV Prato rimandato a stasera alle 20.30 con il Tg Serale. Grazie dell'attenzione, buon pomeriggio. Grazie.